Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi invitata anche qui all'arrivo a Roma. Sono felice di essere in un scenario così suggestivo. L'emozione di dare il via insieme con la bandiera è stata unica, anche perché vedere sfilari dei gioielli delle nostre macchine ci rappresenta in tutta la nostra epoca, nei vari decenni. E adesso siamo qui, pronti ad aspettare l'arrivo. Speriamo che arrivino presto. Capelli raccolti, abito nero scollato sul seno quanto basta, imprezzosito da una trasparenza che lascia entra a vedere la schiena. Manuela Arcuri, madrina della Mille Miglia, dopo aver dato il via alla storica corsa automobilistica, ha voluto accogliere i partecipanti all'arrivo della tappa romana a Castel Sant'Angelo. Emozionata ed entusiasta, Manuela per una sera ha lasciato a casa il fidanzato Matteo Guerra e si è presentata solo a Soletta. La sua bellezza è un gioiello, proprio come le macchine che hanno sfidato davanti al folto pubblico. Donne e motori, quale con noi è un più perfetto?